Sindaco, è più contento o più arrabbiato per il tanto tempo perso? Sono contento, in queste ore sono contento, è stata una sofferenza pesantissima da anni e anni. E' chiaro che sono ferite che non si remarginano mai, perché io avrei voluto continuare a fare il magistrato, portare avanti quell'indagine in modo che la verità potesse venire fuori. Quindi quello è un qualcosa che non tornerà mai più. Addirittura hanno sovvertito il nome, Why Not era il nome della mia indagine, è diventato il nome del mio processo. Da accusatore sono diventato accusato, oggi però si dà atto che abbiamo agito in modo legittimo, che era un'indagine doverosa e mi auguro che si possano riprendere gli atti verbali di quella indagine, perché fa bene al Paese, non fa bene all'ex magistrato dei magistris. Quanto la rafforza in campagna elettorale questo verdetto? No, questo mi rafforza nel continuare la battaglia all'interno delle istituzioni, perché più vado avanti con gli anni e più soffro del vedere la mafia e la corruzione all'interno delle istituzioni. Ce n'è tanta e vedere che ogni tanto si aprono pagine di luce, come è stato l'altro giorno per vicende completamente diverse per Enri De Luca, oggi in questa vicenda per me Genchi, ci rafforza il convincimento di continuare a lavorare all'interno delle istituzioni, perché non è facile, perché essere continuamente pugnalato da esponenti istituzionali è qualcosa che lascia traccia, non è facile andare avanti. Signale, qual è il suo commento sulla legittimità della legge Severino? Sto che qualche mese prima, insomma, se no all'estate, i dibatti sono tutti incentrati sulla incostituzionalità. Ma vorrei attendere le motivazioni della Corte, per la verità. Io credo ci siano dei profili di incostituzionalità evidenti, soprattutto nella mia vicenda, la retroattività, quando mi sono candidato a sindaco la Severino non esisteva come legge, quindi è assurdo che fosse stata applicata nei miei confronti, per alcuni reati lo trovo assurdo, per altri invece, secondo me, un'anticipazione potrebbe essere accettabile, anche andando quindi contro ad altri principi costituzionali. Vediamo che scrive la Corte, credo che alcune cose vadano sicuramente cambiate, immaginiamo che cosa accadeva se io mi fossi in qualche modo dimesso un anno fa, come chiedeva tutto il sistema politico e istituzionale del nostro Paese, tanti opinionisti, se non ci fosse stato il Tarre e il giudice ordinario. Oggi, dopo un anno, che avremmo detto? E quel sindaco non doveva essere sospeso, non si doveva dimettere. E chi restituisce al popolo la sovranità scritta nell'articolo 1 della Costituzione? Una riflessione va fatta e alcune modifiche, secondo me, vanno sicuramente fatte, però ci vuole un dibattito anche scevro dai casi singoli, De Magissis, quell'altro, quell'altro ancora, deve valere per tutti, come dovrebbero valere le leggi per tutti. La Severino è stata un bad persona, se non altro perché la Severino difendeva Prodi e la legge l'ha fatta durante il processo, ha inserito l'abuso d'ufficio non patrimoniale, l'ha voluto inserire lei e la Severino è stata una di quelle maggiormente accanite col suo studio per avere la mia condanna nel processo di Roma. Quindi questo è un tema sicuramente quantomeno da conflitto di interessi evidente tra un ex ministro della giustizia, un difensore e il proponente di una legge che ha cercato di colpirmi e di farmi decadere da sindaco. Questo è un tema molto grave, su cui non ho ancora ascoltato una parola dalla stessa Severino, che probabilmente qualcosa la dovrebbe dire. E ha telefonato De Luca? De Luca mi ha chiamato, mi ha chiamato De Luca, ma soprattutto tutto il rispetto delle telefonate ne ho avuto alcune che mi hanno fatto particolarmente piacere. e sono soprattutto alcuni miei ex colleghi magistrati di cui ho una grandissima stima e che stanno in questo momento in prima linea in indagini e in processi delicatissimi. Sono legami affettivi e sentimentali che si sono rafforzati sul fronte della lotta alla corruzione e alle mafie, quelli sono i legami più importanti. Il resto sono telefonate istituzionali, importanti, significative. Mi ha chiamato anche il presidente della regione Puglia, tantissimi altri, veramente tanti. Ho avuto uno tsunami d'affetto che è importante per la città, non è importante per me, perché questo è stato anche un attacco a Napoli, è stato un attacco alla città che è stato portato in questi mesi, perché questa città dà fastidio, perché ce la sta mettendo tutta attraverso il suo popolo a cambiare. Il popolo quattro anni fa ha scelto, questo mandato deve arrivare fino alla fine e poi sarà il popolo napoletano a decidere chi sarà il prossimo sindaco. Non lo devono decidere con greghe politico-affaristiche istituzionali. Viene un po' la storia del sindaco di strada ora, o no? No, io sono sempre sindaco di strada, anzi, non vedo l'ora di andare per strada, tutta la pioggia. No, io sono De Magistris, queste domande le fate a De Luca. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo percorso politico, ognuno ha il proprio profilo, è difficile giudicare Marino, giudicare De Luca, ognuno si trova nel posto per come ci è arrivato. Queste sono domande che vanno fatte ai singoli personaggi. Però prima ha parlato di impresentabili, che era un po' la visione che accompagna il De Luca in campagna elettorale. No, ha parlato di presentabili. Io mi presento come presentabile. Però ci sono stati di impresentabili? Io sono presentabile. Non entro in queste polemiche. Lei continuerà a fare nomi e cognomi? Dopo dieci anni cosa è cambiato? Sta lanciando diverse accuse, non dico così. È cambiato. C'è più energia politica, c'è più movimentismo, c'è più voglia di cambiamento nel paese dal punto di vista politico e qualcosa è cambiato. È cambiato in Parlamento, è cambiato nelle amministrazioni locali. A livello di penetrazione delle mafie e della corruzione nello Stato e nelle istituzioni è cambiato poco. Molto poco, anche i nomi spesso sono gli stessi, qualcuno l'ha anche fatto in conferenza stampa. Credo che ci sia molta mafia nelle istituzioni e molta corruzione. Anche stamattina ci alziamo con l'ennesima inchiesta sull'ANAS, anche personaggi noti. E per nome di Mercuri? Sì, sì, l'ho fatto. Sallane, Iatti e l'inchiesta, Poseidone. E adesso è invece indagato per riciclaggio? Le mie indagini avevano oggetto sostanzialmente come venivano gestiti i finanziamenti pubblici e soprattutto europei in Calabria. È un intreccio forte tra pezzi della politica, istituzioni, magistrati anche, sono usciti fuori, forze dell'ordine, massoneria deviata, indrangheta, criminalità organizzata. Alcuni nomi effettivamente ricorrono anche adesso e quindi credo che sia utile andare a rivedere quell'indagine come hanno fatto anche alcuni magistrati successivamente a Milano, a Salerno, a Crotone, adesso vedo a Firenze. E si scoprono delle cose molto molto interessanti. Qualcosa si sta pubblicando anche in questi giorni. Io sicuramente da parte mia contribuirò a questa diffusione. Lo farò oggi da uomo pubblico, da sindaco, da ex protagonista di quelle vicende. Poi ovviamente attendo anche l'esito di altri processi. C'è un processo che dura da quattro anni a Salerno molto importante per corruzioni in atti giudiziari. Ricordiamo che io vengo trasferito da Catanzaro per incompatibilità ambientale. Mi sottraggono le funzioni di pubblico ministero sostanzialmente perché non avviso l'allora mio procuratore della Repubblica che è imputato, anche se adesso è deceduto, ma insieme a lui sono imputati gli altri, a Salerno per corruzioni in atti giudiziari, tra l'altro per la revoca di Poseidone, perché non l'ho avvisato che avevo emesso un'informazione di garanzia nei confronti di un ex coordinatore regionale di Forza Italia, senatore avvocato Pittelli. Non l'ho avviso perché il procuratore era già stato sospettato di fughe di notizie molto gravi, perché Pittelli era l'avvocato del procuratore, perché erano molto amici e perché qualche mese prima, precisamente nell'ottobre del 2006, l'informazione di garanzia la manda al fine marzo 2007, il figlio della moglie del procuratore diventa socio dello studio legale di questo avvocato in una società che si chiama Roma 9 SRL, con sede a Corso Mazzini di Catanzaro. Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto da Mancino, imputato nel processo sulla trattativa tra Cosa Nostra e istituzioni, dice che io ho sbagliato perché doveva avvisare il procuratore e la Repubblica e poi si doveva stedere. Io divento incompatibile, i magistrati corrotti sono ancora compatibili con quell'ambiente. Questa è l'Italia, questo è un pezzo di magistratura, questo è un pezzo di Stato. Io di queste cose, dopo la sentenza di ieri, mi sento più motivato a continuarle a raccontare. Si annuncia quindi una campagna elettorale dai toni piuttosto forti, sicuramente non distesi? No, no, ma la campagna elettorale è a marzo, queste cose le racconto prima di marzo. No, no, ma la campagna elettorale è a marzo.